Buonasera a tutti, sono Francesca e voglio mostrarvi una delle cose più interessanti che ho trovato questa settimana Sì, perché faccio raramente qualche video solo quando trovo qualcosa di particolare Allora, ho realizzato uno dei miei sogni perché ho comprato questi colori chiamati Camaleont Sì, perché io ho la pessima abitudine di non comprare online, un po' per scelta presa E avevo visto questi colori su Facebook, su qualche tutorial su Youtube, però non erano in commercio Invece nel mio negozio di fiducia a Mestre le ho trovati Come potete vedere la confezione è molto elegante, non costano poco ma chi compra questo genere di pennarelli Sa benissimo che ogni pennarello va dai 3 ai 5 euro I pennarelli costano un sacco di soldi purtroppo, quelli di qualità Allora, questi pennarelli vengono dall'Inghilterra e hanno una particolarità incredibile Vi svelo subito il mistero, questi pennarelli che sono lunghissimi Si sfumano da sé, cioè senza bisogno di creare la sfumatura Col pennarello puoi direttamente ottenere una sfumatura Quindi è quasi magico In realtà vi dico subito che non funzionano poi così bene Però chiaramente io mi sto anche interrogando con voi Magari sono io a sbagliare qualcosa Però parzialmente funzionano Ora vi mostro Allora, vi spiego Questo pennarello, spero di riuscire a spiegarmi bene Questo pennarello è fatto in tre parti Quindi c'è da una parte la punta fina Come potete vedere che tra l'altro è intercambiabile Perché all'interno della confezione ci sono delle punte intercambiabili Perché si rovina molto facilmente questa punta Perché è molto delicata Poi c'è la punta Aspetta, qua Ecco, la punta grande Tipo un po' a mo' di pennello Che è quella che piace un po' di più Ah no, scusate, questa è quella piccola Ecco qua, non so perché il mio cellulare Non focalizza sul pennarello Vabbè, comunque questa è una punta piccola E questa è tipo più pennello E poi c'è una terza parte misteriosa del pennarello Che non si può aprire E cosa c'è qua dentro? Qui dentro c'è un blender A mio parere hanno sbagliato Cos'è il blender? Allora, il blender è un pennarello Che serve a sfumare Quindi non ha un colore Ha all'interno una sostanza Che serve a sfumare gli altri pennarelli Per chi usa i pennarelli è normale E per chi non li ha mai usati Non lo può sapere Allora, questo blender Non lo posso utilizzare, no? Perché c'è questo pezzo di plastica davanti Secondo me è un'idea stupida Secondo me era meglio se lo rendevano accessibile Comunque, qui dentro c'è un blender Allora, per sfumare il pennarello Vi dico subito che non funziona Perché ci ho provato per due ore prima Cosa bisogna fare? Bisogna inserire la punta Vedete che si toccano Che vanno come a fare l'amore La punta del pennarello A toccare il blender E in effetti Praticamente il blender in teoria Sta buttando questa sostanza Che serve a schiarire il colore Quindi a creare la sfumatura Sto aspettando Si possono aspettare dai 5 secondi 10 secondi, 33 secondi In base alla sfumatura che si vuole ottenere Ok Però, ragazzi, secondo me non funziona Però è molto interessante Che invece sono riuscita a ottenere Delle ottime sfumature Utilizzando due pennarelle insieme Ora vi mostrerò Quindi, vedete, è già da circa 10 secondi Che faccio questa cosa Ok, come due pungiglioni che si toccano Ok Allora, io ora faccio così E non funziona, ve lo dico subito Questo è un colore un po' del cazzo Perché, come vedete Scusate le parolacce È tipo un marroncino Ok Non ha funzionato Però, ora Senza annoiarvi Molto velocemente Vi mostrerò Prendiamo Questo rosa E questo grigio Proprio per essere un po' estremi Rosa e grigio Ok Allora, io prendo Questo rosa Ok E prendo questo grigio Cosa faccio? Come prima Unisco le due punte Ok Ecco qui Vedo proprio Io che sono da vicino Il colore grigio Che entra dentro la punta del rosa Ok 1, 2, 3, 4, 5 Ok Ora Io faccio così Grigio 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 È un grigio rosa Vedete Che sta sfumando Ecco qui Vedete che ha fatto una sfumatura E quindi io con un solo penarello Sono andata dal grigio a rosa Faccio un'altra prova Cerco di mostrarvelo più da vicino Non sono molto brava a fare i video Ma ci provo lo stesso Però dai Questo prodotto valeva la pena di essere mostrato Chiaramente C'è chi l'ho Chi l'ho mostrato meglio di me Però ragazzi Secondo me il blender non funziona Infatti erano in sconto Secondo me può essere che mi abbiano un po' Tirato un pacco Allora Quindi questo È un giallino E questo è Il Un altro tipo di rosa Allora Proviamo di nuovo Ecco qui Il colore sta entrando Aspetta che lo faccio vicino al video Ecco qui È bellissimo da vedere E Adesso mi metto più vicino Che così Vedete meglio Allora Giallo 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 E diventa rosa E Vedete che è proprio una sfumatura Che è andata dal giallo a rosa Allora Io ero curiosa E ho fatto la prova Con i penarelli Che compro Solito i miei preferiti Che si chiamano Brush marker Anche questi purtroppo costano 3 euro l'uno Non ti regala niente a nessuno E E niente Non funziona Cioè non succede la stessa cosa Se io faccio così Succede la stessa cosa Nel senso che il colore va dentro Ecco qua Vedete che ho reso la punta del giallo rosso Però quando faccio così Viene fuori Una schifezza Non viene fuori Non è Non è la stessa cosa Non è venuta fuori una sfumatura Quindi questi colori Funzionano Ma anche no Perché il blender Cioè questa parte qui Che è nascosta qua dentro Non ha funzionato Non so perché Anzi lo chiedo a voi Secondo voi ho sbagliato qualcosa Secondo me no Ci ho provato per 20 minuti Prima di fare il video E invece però La combinazione tra i colori funziona Certo che Non lo so Allora Io sono entusiasta Mi piacerebbe comprarne altri Però sinceramente Nel mio negozio di fiducia Ne hanno pochissimi Quindi io non ordino online Quindi Però forse ne acquisterò Un altro paio Ora ho solo 3-4 colori E le combinazioni Non sono poi così interessanti Certo che Avendoli tutti No Perché per esempio Vedete di questi ne ho tanti Quindi posso fare Delle combinazioni Più interessanti Secondo me È un po' Non saprei Allora Per il fatto che non funzionava Il blender Darei un voto pessimo Però per il fatto Questa cosa Di fare le sfumature Tra due pennarelli diversi È veramente notevole È veramente figo E Per questa cosa Darei un voto 9 Quindi Secondo me Va la pena di ordinare La scatola grande Quella con tutti i colori Che costerà Non voglio pensarci L'iradio di Dio Cosperà Cosperà tanto Non voglio neanche saperlo Però Sono carini Sono carini Sono delusa Ma anche no Questi colori Che Adesso Ve li mostro Per l'ultima volta Sono lunghi Ma ho fatto un casino Guarda Per fare il video Non so se vedete Li ho tutti aperti Siccome sono in tre Non si capisce più niente Vabbè comunque sono lunghissimi Come avete potuto vedere Bene Allora vi lascio Spero che vi sia Interestato minimamente Questa cosa Dei Camaleont Pennarelli E voglio dire Che io Adoro i pennarelli Perché obiettivamente Sono Un po' Come dire Un modo Moderno Perché Nell'antichità Non c'erano i pennarelli E sicuramente Il pennarello Rende la realizzazione Delle opere Molto più veloce E divertente Io sono una grandissima fan Dei pennarelli Quindi Perché no Se volete farvi un regalo Regalatemi E regalatevi anche I Camaleont Marker Color Perché no Bene Buona serata a tutti Da Francesca E dai Camaleont Marker Color Ciao ciao Ciao